Musica Buongiorno a tutti, ben ritrovati oggi con un nuovo appuntamento di Un giorno un fiore. Nella rubrica di oggi vi vogliamo parlare di una pianta fiorita, di un cespuglietto che si chiama cineraria, cineraria fiorita. Abbiamo due tipi di cineraria, una che è tipo argentata, che la trovate nei parchi, nelle ville comunali ed è quella argentata che è un grande cespuglio. Questa è sempre una cineraria però è fiorita ed è di diversi colori. Come la potete notare in questo bancaletto, l'abbiamo azzurra, rosa, in varie tipologie di colori. La cineraria è una pianta molto resistente, è una pianta perenne, fiorisce in questo periodo da gennaio barra febbraio, Però lì dura tutto l'anno, quindi il verde lo avremo tutto l'anno. Tranne se in determinate occasioni, come in questo periodo che le giornate sono poco poco più calde, fiorisce ora e fiorirà pure nelle prime settimane di marzo.